Ecco praticamente la località dove si svolgerà la mostra Controvento. I preparativi sono già partiti per la mostra Controvento, io sono Mulla, intervengo per la mostra come cantautrice per questi due amici che espongono l'8 e il 9 aprile prossimi dalle 12 al tramonto in questa meravigliosa località. Ecco l'artista Enza Teti, ci vuole rilasciare un'intervista? Sto facendo il video di presentazione. Stiamo già preparando, Enza Teti vuole rilasciarci qualche commento? Per ora no, grazie. Va bene, allora ecco l'altro artista, Ricky, sono tutti e due molto nervosi, impegnati. Buonasera, sono in parte di sostegno dei quadri. Ecco adesso è proprio il momento in cui c'è il montaggio di tutti i quadri. Non potete mancare a questa mostra che si trova a Stravento, ecco il nostro sostenitore Angelo Ferrara, vuoi dire due parole sulla mostra? Grande mostra, Controvento, non mancate. Non mancate, lo dice anche lui, lo dice anche Paco, ecco Paco, pure lui dice non mancate. E quindi veramente non potete mancare, guardate. Mare, ci sarà di sicuro il sole, l'8 e il 9 di aprile, dalle 12 al tramonto, Porticciolo di Santa Marinella, Via Roma, Stravento, Ricchi, Enza Teti e Mulla.